Quindi direttamente il consigliere Calendo. Anzi, ce n'è uno solo che riguarda la costruzione di nuovi presidi sanitari, evidentemente, prevalentemente, di competenza della Regione. Gli obiettivi sono vaghi, sono richiami, slogan, non si precisa quando verranno raggiunti, in quanto tempo, con quale risorse. Dunque, una città per le donne, per i giovani, per gli anziani, dei 15 minuti, pulita, ci mancherebbe altro. E tavoli, patti, accordi, una superfetazione di strutture burocratiche in una città che avrebbe invece bisogno di levare burocrazia, non aggiungere burocrazia. Leggiamo, per esempio, che la Giunta si impegnerà, dal punto di vista della Casa, per un rinnovato interesse e impegno per lenire le difficoltà di molte famiglie nel tornare alloggio accessibile. Ma non si parla del bonus casa, lo riformerete, come? Non si parla dei cut, ce ne sono ancora nove, costano 24 milioni all'anno, che farete? Nel merito sul tema centrale delle partecipate ancora non c'è nulla, anzi, c'è una deferenza totale. Io direi a veti sindacali, parlo dell'incorporazione di Ama e Nasha, di cui non si fa accenno, si parla di sinergie. Ma che vuol dire? Cosa vogliono dire le sinergie? E vengo a un fatto grave, perché lei ha detto che non è vero che nell'accordo appena fatto per la pulizia straordinaria c'è un incentivo per diminuire i giorni di malattia. Ma invece c'è esplicitamente, si dice che i giorni di malattia devono diminuire del 10% nel periodo dicembre-gennaio rispetto all'anno precedente. Allora o è un invito a prendere le vitamine o in realtà è una presa di consapevolezza che oggi Ama ha il doppio dell'assenteismo delle municipalizzate in Italia. Ma invece di contrastare questo fenomeno che ha spese dei cittadini, priva del lavoro per cui i dipendenti dell'Ama sono pagati, gli si dà un premio per quello che dovrebbero fare. Questo è del tutto inaccettabile, ancora sul piano di pulizia straordinario, che io credo, signor Sindaco, lei è stato un po' imprudente a pensare di poter concludere entro Natale. Noi prevedevamo un anno e un anno prendendo una società che è un global service che avrebbe aiutato Ama, non solo con le risorse dell'Ama. E ancora leggiamo le ambiguità sul termo valorizzatore. Lei dice che arriveremo a 500.000 tonnellate con la quarta linea, ma la quarta linea è una linea di trattamento dei fanghi e di backup delle altre. Lei dice che la trasformerà in una linea piena e allora quando si farà una manutenzione delle altre, quale sarà? E ancora dai il numero di 500.000 tonnellate, ma oggi, come lei sa, San Vittore lavora per due terzi per il Lazio e per un terzo per Roma. E dunque quei numeri sono del tutto sbagliati rispetto a Roma. Ancora sulla questione vigili urbani non viene citato nulla. Non si dice se si faranno le turnazioni, se ci sarà una centrale operativa unica, in che modo verrà implementata la videosorveglianza. Potrei andare avanti su molte cose. Non lo faccio perché in realtà siamo fermi, esattamente fermi, agli slogan della campagna elettorale. Allora, vede, noi siamo disponibili a darle una mano sui progetti e anche oggi faremo degli emendamenti. Però è tempo di svuotare la discussione su Roma di retorica e slogan. È tempo di spiegare in modo preciso e articolato come si faranno le cose, con quali soldi, in quanto tempo. Perché, vede, la situazione è talmente drammatica per cui i romani hanno già, iniziano questa legislatura, con una sensazione di scoraggiamento che ha determinato un'astenzione gigantesca. Ecco, io credo che questa astenzione si può vincere e la fiducia riconquistare sulla base della concretezza e del pragmatismo. Non sulla base del manche, del mettere tutto, di pensare che uno slogan risolva una situazione complessa, magari per non disturbare nessuno. Ecco, ci saranno soldi per il giubileo, sì, potranno essere usati in due modi. Un modo è quello di potenziare quelle che sono le dotazioni infrastrutturali di Roma, di renderla più accogliente, perché decorosa, con azioni specifiche. Un altro modo potrà essere quello di non lavorare sull'efficienza dell'Atac, dell'Ama. Sull'Atac non si dice praticamente nulla, si dice che si lavorerà insieme ai lavoratori, grazie con chi si vuole lavorare. Ma si farà l'Atac a livello regionale, con le ferrovie dello Stato e con Cotral, si farà un'agenzia dei trasporti che sia più grande di Roma, perché a Roma operano agenzie diverse. Ecco, se noi non tocchiamo il tema dell'efficienza, signor Sindaco, quel miliardo e mezzo che arriva per il giubileo, gli altri pioggia di miliardi che lei ha descritto, potranno servire tutt'al più per mettere un po' di polvere sotto al tappeto e non usati per risolvere una questione ormai decennale di una città inefficiente e non accogliente. Su questo noi la invitiamo a fare una riflessione. Il tempo della vaghezza e della retorica è finito, inizia il tempo in cui lei deve prendere delle decisioni e le decisioni devono essere nette e chiare. E oggi, mi spiace dire, lei non lo è stato. Grazie. Ha chiesto di intervenire il consigliere Trabucco della lista civica Qualtieri Sindaco.